Esistono dei posti su internet in cui i ragazzini organizzano delle spedizioni di odio nei confronti di altri ragazzini. Gli rubano le password, li umiliano e poi gli chiudono gli account. Oggi esploreremo insieme uno di questi posti, però vi avverto, prendetevi una camomilla perché oggi i nervi vi scoppieranno davvero facilmente. Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottocopertura. È strano che esca oggi, perché semplicemente ragazzi volevo aspettare che ci fosse un po' più gente che tornasse dalle vacanze e che faceste tutto quello che doveste fare per potervi, oddio godere mi sembra un parolone, però per potervi vedere questa perla. Avrete sicuramente visto la durata di questo video, è enorme rispetto al solito. Questo perché ciò che voglio mostrarvi oggi è un ambiente che ho approfondito davvero nel dettaglio per diverso tempo. Un ambiente che probabilmente ho fatto passare in passato come un qualcosa di molto più ninnolo rispetto a ciò che è davvero. Quindi oggi sappiate che vi porto con me nel cuore di una community anti-cringe, ma non una qualsiasi, bensì l'unica italiana che faccia effettivamente casino, che crei davvero qualche problema. Quindi oggi andiamo a vedere nel dettaglio tutta questa roba qua, ma prima ho addosso l'unica maglia di Pampling che si possa avere in questo caso, il fantasmino della disapprovazione. La trovate su Pampling e in questo momento ci sono tantissimi sconti. Sconti che potete rinforzare ancora di più con il mio codice sconto Gematria, tutto maiuscolo. Utilizzandolo non solo avrete uno sconto extra accumulabile su tutto quello che prenderete, ma alla fine del vostro ordine otterrete anche un paio di calze gratis. Detto questo, il modo in cui calza la maglia me lo state vedendo addosso in questo momento sta benissimo. Quindi se volete aggiornare il vostro guardaroba con dei materiali di qualità e con dei design unici, Pampling. E dite che vi mando io. Ah, ovviamente like e iscrizione, non dimenticatevi, perché poi più avanti sarete così scioccati che me ne dimenticherete, quindi ve lo dico adesso. Ora, questo video non l'ho scritto ragazzi, ho soltanto 75 screen, una cosa del genere, è da farvi vedere. Quindi ora vi sedete, vi mettete belli tranquilli, vi prendete qualcosa da bere e da sgranocchiare e partiamo. Innanzitutto questo qui è il logo di questa community. Io non farò battute al riguardo, però non posso non dirvi che cosa mi ricorda. Ma tranquilli che il mood all'interno di questo server, perché stiamo parlando di un server Discord, è esattamente quello che sembra. Andiamo a vedere un po' di statistiche prima di cominciare. I membri in totale al momento del mio ingresso erano 70, 61 membri, 9 bot. Quindi non stiamo parlando di un ambiente chissà quanto grande, stiamo parlando di un ambiente abbastanza ristretto, ma ve l'avevo detto nella puntata di Sottobosco nella quale vi avevo parlato di questo argomento qui. Questi sono degli ambienti molto, molto tossici, ma anche molto ristretti alle volte. Comunque sia, entro nel server, vado un attimo per vedere le regole e mi soffermo su un punto in particolare, il punto 8. Il limite d'età in questo server Discord è 10 anni, perciò se ne è di meno, torna quando ne avrai 10 o più. Questa regola è una fallacia logica e anche una contraddizione perché limiti d'età a 10 anni significa che se hai più di 10 anni non puoi entrare, però ovviamente è scritto per intendere che se hai meno di 10 anni non puoi entrare. Il punto qui è che razza di limite d'età è 10 anni. Che posto è questo? Dove sono finito? Non faccio neanche in tempo a chiedermelo che subito c'è un sondaggio apposta. Quanti anni avete? Circa, beh circa, che vuol dire circa, tipo me che ho un'età compresa tra i 10 e i 30 anni? Comunque sia, c'è chi dice 7 o di meno, chi 8, 10, 11, 13, 1, 17, 19, un'ultraventenne. Questa cosa mi ha fatto subito capire che all'interno di questo server c'era un qualcosa che non andava perché mai una persona di, non dico tanto, ma 17, 17 anni in poi dovrebbe far parte di un ambiente del genere. Che cos'è sta roba? E come se non fosse abbastanza, vengo contattato da un membro di questo server. Come se già non ci fosse abbastanza materiale per interessarsene a questa cosa qui, ma questo ha messo proprio la ciliegina sulla torta. Ciao, per il pagamento della quota di partecipazione alle operazioni di ride puoi chiedere a me? Neanche due minuti qui dentro è già il primo tentativo di truffa da un probabile ragazzino perché alla fin fine chi è che ti truffa per 10 euro? Non lo so, gli avranno tolto la paghetta, non ho idea. Altro sondaggio, che limite d'età dovremmo inserire? Un sacco di persone, non limite, ma comunque sia il massimo è 10 anni, quindi anche qui mi sono reso conto del fatto, interagendo poi con un po' di queste persone, perché io all'inizio, all'inizio, poi scopriamo il perché, sono entrato con un account falso, ma non è questo il punto. Io sono ancora là dentro, perché se lo chiedesse, questi qui pensano di avermi bannato, ma no, io sono ancora lì dentro, facessero quello che voglio, no, assolutamente no. Quello che vi sto dicendo è che semplicemente ho avuto modo di interagire con qualcuno di questi membri qui, e io ho un paio di maggiorenni, ne ho trovati. Maggiorenni che si fingevano minorenni, e non penso che lo scopo fosse il mio, quindi quello di fare un video, dubito. Buongiorno, salve, 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 buongiorno a tutti, good morning, scritto male, eccomi, su quella cosa di cui stavamo parlando prima, puoi continuare nome e cognome? Penso che vi siete resi conto del fatto che ci troviamo in un server Discord, in cui questi tizi si organizzano per fare delle operazioni paramilitari però su Discord, ma vedrete meglio tutto quanto tra poco. Praticamente ci sta sto sito, che puoi modificare un link innocente in uno pericoloso. Questa capacità rivela dove abita, il suo vero nome, indirizzo IP, eccetera. Non è un po' cattiva come cosa? No, cioè, e se fosse davvero una bambina, solo noi sappiamo, mentre lei no. Ah ok, allora però, chi glielo manda? E dove glielo mandiamo? Su Instagram, penso. Io ho un'idea per questo link. Un po' di contesto allora, visto che non voglio partire come un treno, ma l'ho già fatto. Cosa stanno confabulando questi due? Stanno semplicemente organizzando il mandare un link pericoloso a una probabile ragazzina. 10 su 10 per motivi di odio, ma non è un'ipotesi, ve lo dico io, perché più avanti lo capirete. E capirete anche quanto è stupido questo motivo di odio. Però, ultima cosa da sapere, che cos'è Robux Scam? Robux sono le monete di Roblox, il gioco. Le truffe con queste cose qui. Oppure per Madrid, che sarà una regina? Oppure per l'Olanda, visto che è una monarchia parlamentare? Ok, riesci a crearlo tu, Raz? Fammi guardare Pornhub. Beh, grandi interessi, grandi tattiche, ma hanno anche tentato di intestarli un viaggio, praticamente, in maniera sempre truffaldina. Dobbiamo prendere la principessa, smerdo. Dopo ti puoi guardare i fornazzi quanto vuoi, ma per ora dobbiamo hackerare. Tantissimi tag, dopo aver sborato, ok? Urca che sborato, penso che c'è un po' troppi dettagli. Non sono neanche sicuro di volerlo sapere, però vabbè, ormai lo so. Mo' vado a creare il link falso. Mette questo link di questo libro, e il che cos'è questo libro ci servirà per dopo. Ci servirà per dopo. Secondo voi sarebbe meglio per il link? Ho già copiato il link. Tutto questo piano malefico, comunque sia, termina con un È impossibile. Non ce la faccio. Questo tentativo di scam è stata la prima cosa che ho visto appena sono entrato all'interno di questo server. Che cosa volevano fare questi tizi? Giusto per fargli capire la loro inadeguatezza in questo mondo. Volevano usare un IPlogger. Un IPlogger è un servizio che è tranquillamente ricercabile su Google, non ci vuole un genio, non devi sapere hackerare. Serve per camuffare un link e prendere alcuni dati, come per esempio un indirizzo IP, e se hai dei buoni programmi, poi anche la posizione e tutto quanto. Non è legale farlo in questa maniera che avete appena visto, ovviamente, ma è un bene che questi tizi non lo sappiano usare. Ma non è questo il problema, andiamo avanti. Raga, entrate tutti nel server su partnership. Ci tengo molto. A parte la grammatica tremenda alla quale siete stati sottoposti adesso, sarete sottoposti anche dopo, ve lo dico. Però vedo questa roba e dico, fammi andare a vedere un attimo partnership. Che cos'è sta roba? Il AIPGTO, un server anti-cringe per ora sviluppato contro la principessa Giorgia. Il nostro obiettivo è diventare un anti-cringe tra i più forti, per poi battere potenze più grandi come sto tizio. Entra ora, sei invitato a entrare in un server, anti-principessa Giorgia. E qui mi sono reso conto di essere entrato in un posto veramente magico. Principessa Giorgia. Che cazzo di piacere, cioè, buon piacere. Benvenuti nel server Discord dell'alleanza contro la principessa Giorgia Vinocchiona. Qui potete, due punti, divertirvi e insultare la principessa Vinocchiona. Le bestemmie sono ammesse. E il parco giochi, vai, libera tutti, vai così, perfetto. Numero uno, la queen dello mondo. Numero due, la gacha pro, con due emoji. Numero tre, la principessa Giorgia. Io, in tutta onestà, non so minimamente, almeno non sapevo, di che cazzo stessimo parlando. In che senso la queen dello mondo? Cioè, che cosa? Salve, potrei parlare con l'owner, quindi il proprietario? Potrei parlare con te? Certamente, mi dica tutto. La ringrazio. Se potrebbe fare, madonna la grammatica, questa cosa per essere più ordinati? Tipo, nuove persone che sono cringe, come la principessa della Calabria, recluta del cringe. Tipo, per poi la principessa Giorgia, soldato del cringe. Poi, più avanti, si va con veterani del cringe, tipo i me contro te. Buona idea, la prenderò in considerazione. Grazie per il consiglio. La ringrazio per averla presa in considerazione. Ma che cos'è? Ma che posto è? Ma 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 che co... Vabbè. Dovremmo organizzare un hacking nei confronti della queen. Ok, di parte dall'indirizzo IP? Si parte. Si corregge. Sì. Sai chi è Mr. Domino? Per poi arrivare a tutto il resto fino a prendere il canale YouTube e premere il tasto elimina account. Questo è quello che fanno qua dentro. Cercano effettivamente di creare dei danni grossi alle persone. Semplicemente perché... Oh, questo è cringe. Questo è cringe. Come se non fosse cringe tutto quello che vi ho letto fino adesso. Come se non volessi cavarmi gli occhi soltanto per aver letto come scrivono sti tizi. O quello che fanno pensando anche di essere degli uomini tutti in un pezzo. Uomini? Perché qua dentro? Di figa non ce n'è? Ragazzi, cioè, con tutta la buona volontà. Come pretendete? Sarebbe anche strano. Se dei soggetti del genere fossero capaci di avere un rapporto con il stesso opposto, avrebbero scoperto un mistero che noi tutti non sappiamo. Perché per farlo in queste condizioni devi essere veramente un maestro. Ma in tutto ciò mi chiedo. Chi è sta gente? Che cos'è la principessa Giorgia? Mi vado a informare, cerco su YouTube e quello che trovo è effettivamente un canale nemmeno piccolo. La principessa Giorgia. Ma è ovvio, io sono la fantastica principessa Giorgia e benvenuto sul mio fantastico canale. Sono un personaggio roleplay e faccio video palesemente ironici. Se hai letto questo, scrivi nei commenti i video shorts dei complimenti per confondere tutti. Ragazzi, io in tutta onestà ho visto dei video. C'era Dennis a casa mia, siamo rimasti tutti e due, in particolare io, stranamente attirati dallo schermo. Non sappiamo neanche perché. Ma ciao, amori! Come avete letto dal titolo? Ho visto una fidanzata! Sta di fatto che questo canale sul quale viene fatto hating è un canale che fa palesemente, tra le tante cose, hatebait. È un canale di Roblox in buona percentuale troll, con tutto il fatto che è un canale che funziona. Quindi io mi sento di stringere la mano a questa persona che, per quello che ne so, la voce modificata potrebbe anche essere un uomo. Non lo so, spero di no. Ma mi sento di stringere la mano al proprietario di questo canale perché ha fatto veramente un buon lavoro. Cioè, vorrei farlo anch'io, ve lo faccio il canale di Roblox, ragazzi. Comunque sia, questa è la principessa Georgia. Un canale che ha un proprio brand, che ha un proprio merch, se ho capito bene. Ha tutto quanto. Quindi, boh, cioè nel senso. Da qui mi vado a informare anche sull'altro canale che ho sentito, che poi ho scoperto essere tipo, nella lore, l'avversario di questa principessa Georgia, ovvero questa Queen dello mondo, che già è il nome, non lo so. Ma questo è un canale gaccia, palesemente e pesantemente troll. Cioè, vi basta soltanto leggere qualche titolo. Apro un concorso di disegno, sono eter, sessuale, se io sarei la figlia odiata, GLMM, parolacie. Ma in tutta onestà, come fai, onestamente, intellettualmente, come fai a prendere sul serio una cosa del genere? Come fai a dire, sì, io odio questa cosa perché penso che sia fatta seriamente? Come fai? È chiaramente un trollone, è chiaramente una cosa fatta apposta, chiaramente una cosa fatta per scherzare, per prendere il culo gente come te, che sta lì tutto il tempo in isola da stiera, così... Sei palesemente la vittima di una cosa del genere. E non te ne rendi conto, e per me questa cosa è indice di qualche problema grave. Torniamo nel server, tuttavia. Parliamo da persone civili qui dentro, al posto di quello della Queen, visto che è il timeout di 30 secondi. Se prendiamo le sue informazioni, la possiamo minacciare, ma non così. Non sappiamo un cazzo di lei, e non credo ci sia alcun hacker qui, non è vero? Ma perché devi andare a prendere le informazioni di chi, poi, di un account falso? Dio mio, Dio mio, veramente Dio mio. Poi questa è la stessa gente che viene da me a dirmi che non le so fare queste cose qua. Gesù, Spotify account ufficiale? Che sia chiaro, questo tipo di account qui, io mi rifiuto categoricamente di censurare, perché fino a che si può essere proprio vagamente ricollegato, io censuro, ci metto tutta l'attenzione del che volete, e ci ho messo quattro ore della mia vita a censurare tutta questa roba qua, ok? Screen per screen. Ma Spotify account ufficiale? Per favore, mi rifiuto. Mi fate arrivare a 1500 iscritti su YouTube, quanti ne è al momento? 40. Avevo un canale da 100 iscritti, però è andato a puntare. Io non so a che conversazioni sto assistendo. Gli dicono, sarà impossibile. Impossibile. Quella maiala di Jesse, non so chi sia, ne ha avuti mille così a cazzo. Ho capito. Ma mica sono Mago Merlino che fa comparire mille iscritti. Te prova a fare la dispiaciuta. Le chiedi la password e le freghiamo l'account. Dopodiché faremo un video dove diremo a tutti di iscriversi al mio e al tuo canale, ed il gioco è fatto. Idea migliore ce l'ho io. Quando l'achero, pubblico il video dove dico tutta la verità nel suo canale, ok? E poi? La verità nel senso che svelo chi è e dove vive, eccetera. Poi voi mi sponsorizzate. Questo è quello che vuole questa gente orribile. Vuole semplicemente la stessa identica cosa per la quale prende di mira gli altri. È gelosa di numeri, a volte veramente due numeri, degli altri. Tanto da arrivare ad architettare queste cose malefiche, tutte queste cose così, soltanto per prendere una micro briciola. Ma state male. Ma poi chi è che ti si deve iscrivere al canale se ti chiami Spotify? Accanto ufficiale vuol dire proprio che c'è la smania. Che c'è proprio la cosa che lo devi fare perché altrimenti sai di non valere niente. Madonna mia. Mi rendo conto che stiamo parlando di ragazzini, ragazzi. Ma il punto è che per queste cose qui, anche più leggere, ci sono dei ragazzini che si tolgono la vita. Io ve l'ho sempre detto. Ci sono tanti casi in cui questa cosa è effettivamente successa. Non possiamo far finta che non sia così. Rivolta nel server della Queen. Ora, brù e cominciano a spammare roba. Ma adesso arriviamo a una cosa che mi ha fatto sinceramente sorridere. Questo screen, ragazzi. Questo screen era per dire guardate la sto hackerando, sto facendo le cose con i programmi, con i numeri. Ragazzi, quello lì è l'HTML di Google Chrome. Io mi sento anche un attimino in imbarazzo a doverlo dire, però no, quello non è un attacco hacker, non funziona così. Non, no. Il fatto che ci sono due scritte che tu possa dire agli amichetti tuoi ah, lo sto facendo, non è effettivamente. Ma è un hack? Sì, ci sono quasi. Serve solo l'email. Qualcuno ha l'email. Cioè, tu mi vuoi dire che la password di un account, ma non hai l'email? È un po' strana che cosa, non pensi? Cioè, c'è un qualcosa che non va, solitamente il contrario. L'email è pubblica e la password non lo è. Però, vabbè, cioè, facciamo finta. Ragazzi, non ci posso ancora credere che siamo già in 40, vi voglio troppo bene. E per questo creo 9 emoji come ringraziamento e farò più ride. Grazie ancora per questo incredibile traguardo. Ma ora non montiamoci la testa e puntiamo dritti e 50. Grandi traguardi, però vabbè. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale della mia bio. Così partiremo con un buon numero di iscritti quando inizierò a pubblicare video. E avremo più chance di andare nei consigliati. Tutto quei cuoricini, tutte quelle cose, fino a quando due minuti fa c'era lo schifo. Però vabbè. Bob, la Queen cambia password al canale, ma a te la riesci a ritrovare immediatamente e continui così in loop. Aio, la Queen continua a cambiare password aggiungendo un numero, ma ha problemi. Tanto ormai l'ho preso. Madonna santo. E' prima che si vede che sono ragazzini. A un certo punto, per qualche motivo, vengo nominato io. Buonasera, non so se si riferisce a noi, ma se si riferisce a questo gruppo significa che Gemmino vuole farci un video contro. E in realtà no. Qua però mi sono seriamente chiesto se non fossi stato io. Diciamo l'artefice involontario di questo ambiente, perché è successo tante volte. Parlo di un qualcosa che c'è in America e succede qua in Italia. Ma non mi sembra questo il caso. È un dubbio che mi sono posto, ma anche nel frattempo che registravo adesso mi sono detto che probabilmente no. E' stata una coincidenza. Altre volte è successo. Altre volte sono stato io il burattinaio inconsapevole che ha creato un terreno fertile per creare dei soggetti un po' così, però non è questo il caso. Mi sa proprio che avevate ragione. Gem ci ha fatto un video contro e c'è un emoji con la mia faccia. Sono onorato, cioè ci sono io. Grazie. Ho notato, la gente non ha proprio niente da fare. Di sicuro saranno stati dei gemmi di merda a spammare tipo in cinese, non lo so. Ma comunque, giusto per cultura generale, vorrei ricordare a questi baldigiovani che non tutte le persone su internet appena vedono qualcosa ci si scagliano addosso come dei piragna. Se voi avete questo comportamento e conoscete solo questo, è un problema vostro. La gente solitamente non fa così. Gemmini chi sono? Sono degli stronzi del cazzo che non hanno nulla da fare nella loro misera vita. Gemmatria? Sì. Lui e i suoi fan del cazzo. Madonna, l'odio anch'io. Quelli che conoscono hanno fatto una battaglia nel 2020. Sono delle teste di cazzo, tutti gli stanno sulle palle. Una battaglia. Boh. Boh, vabbè. Chi è Gemmatria? Gemmatria sarebbe uno youtuber che scopre miti sul web, ma è uno youtuber di merda, una community tossica. Vabbè, cosa che pensa lui, non lo so che me lo dica uno che sta in un server anti-cringe. Vabbè. È un po' come se un nazista venisse a dirti sei violento, cioè nel senso, boh. Ma capì, piccolo inconveniente, scopre miti, cose, non è neanche così, ma va bene. Piccolo inconveniente, ma è uno youtuber di merda. Ci lavorerò. Non lo so. In tutto questo, vienete a casa mia, dobbiamo passare dei file e ci cominciamo a spulciare sto canale della principessa Giorgia, perché è una lorda a approfondire. Spunta questo Glock51 che dice la sua storia dove lei racconta la sua scalata al potere. È curiosa e interessante. Tuttavia ho qualche domanda e spero che possa ricevere una sua risposta principessa. Attualmente, che tipo di potere predispone con questo titolo? Potere legislativo? Costituzionale? Militare? O è un potere simbolico dovuto alla fama e al riconoscimento sociale? Oltretutto, cosa garantirà lei al futuro di Roblox? E quali miglioramenti e benefici trasmetterà, oltre al suo fascino smisurato? Ci sono le comunali su Roblox e io non avevo idea. Tornano nel server. Vi prego di leggere in obiettivi. Ci tengo molto. Grazie. Gli obiettivi in questione ve li faccio vedere adesso. Come potete vedere, sono degli obiettivi di persone, di membri, che sono un po' gli iscritti di Discord. Come potete vedere, molti di questi obiettivi sono quasi irraggiungibili. Perciò ci serve anche il vostro aiuto. Invitate tutti i vostri amici in questo server. Grazie per la collaborazione. Vedete com'è lo switch di personalità nel momento in cui gli serve qualcosa con i cuoricini, con le emoji, con le cose. Poi, appena devi fare qualcosa, un cavernicolo, un Neandertal. Va bene. Questo è importante. Si prega di leggere attentamente un avviso urgente. Qualcuno chiamato Playhatsu sta inviando una richiesta a chiunque accetti la richiesta amicizia subirà la violazione del proprio account, causando la vittima dei membri e del proprio gruppo. Spargi la voce e invialo al maggior numero possibile di server incompatibili. Non so. Se vedi quest'utente, non accettare la sua richiesta di amicizia e bloccalo immediatamente. Discord ci sta attualmente lavorando. Invialo a qualsiasi server in cui ti trovi. Questo è importante. Non accettare richiesta di amicizia da Playhatsu è un hacker. Dillo a tutti nella tua lista di amici, perché se qualcuno nella tua lista aggiunge uno di loro, sarà anche nella tua lista. Scopriranno l'IP e l'indirizzo del tuo PC. Quindi copia e incolla questo messaggio dove puoi. Per favore, state tutti attenti. Dicono che è una cazzata, ovviamente. Dicono, guarda, è una catena di Sant'Antonio. Tu stai cadendo in una catena di Sant'Antonio. Voglio capire. Questa gente che vuole stirpare una cosa proprio da internet. e si fa fregare delle catene di Sant'Antonio. Boh. Bro, è vero. Avevo un alt. Sarebbe un account alternativo. Questo mi ha mandato la friend e ha fatto una domanda a cazzo e poi dopo 20 minuti non avevo più l'alt. Per fortuna non era collegato alla mail di questo. Altrimenti avrei perso questo e anche voi avreste perso i vostri. Ma ti pare? Ma che cavabba? Io non ho parole, veramente. L'unica cosa che è stata capace di una cosa del genere è stato un virus tipo il Melissa che anno era, tipo il 2005. Però è stata una cosa nazionale su scala planetaria ed è una cosa che è entrata nella storia. Cioè, Dio sa... Cosa si fa in questo server? Perché ti viene in modo diverso? Si attaccano gli youtuber più cringe di YouTube Italia e si punta a far ritornare la vecchia YouTube Italia. Non mi ricorda assolutamente nessun partito con il braccio lievemente a 45 gradi. Così va bene. Così va bene. La via di mezzo la evitiamo. Ah sì, mi ruba, ha senso. Anche la Queen è da eliminare, ma gli altri youtuber tipo Cazzuosa, non so cosa sia, o Principessa Schiforgia. Comunque un range per bambini piccoli. Vabbè, Cazzuosa è da eliminare, però gli altri tipo Principessa Schiforgia... Il tenore delle conversazioni è questo. Quindi, Dio, a un certo punto mi dico, vabbè, nella lista nera di queste ci sto pure io. E fino a questo momento sono rimasto là dentro solo ed esclusivamente con il mio account falso. Cosa che in realtà è ancora in atto, perché pensano di avermi bannato, hanno bannato un poveraccio così senza niente, per bannarlo nell'effettivo, però io sono ancora là dentro. Mi chiedo a questo punto, ma se entrassi, non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto ragazzi, ma se entrassi con il mio vero account... Eh, insomma ragazzi, ho generato una linea temporale alternativa. Vabbè, io non sapevo che cosa dire, esordisco con Ahoy, taggo tutti, hello, rispondo a qualche commento di qualche tizio che mi insultava. E subito c'è il panico generale, perché l'oggetto dei loro insulti è entrato nel loro pulcioso server Discord. Gematria, oddio, oddio! Vabbè, io ammetto che l'ho fatto per farli un attimino spaventare, anche per vedere la reazione, perché ero sinceramente curioso di sapere che cosa avrebbero fatto. Perché oltre a ciò che vi ho fatto vedere, poi ce ne sono state tantissime minacce nei miei confronti, e quindi mi sono detto, ma voglio vedere cosa fanno. Al che, per fargli capire che stavo facendo un video e questo video in particolare, gli mando la cartella con i primi screen, la prima cinquantina di screen che avevo raccolto. E, insomma, ci scrivo The Hahahaha, non sapevo che cosa fa. Il proprietario di questo server, tuttavia, si rende conto del fatto che sono entrato e che quindi qualcosa sta per succedere. Bro, ma è entrato Gematria. E dopo un po' di minuti, tipo una decenni di minuti, oh no, che paura! Perché devi far vedere che sei un grande, sei proprio tosto tu. Tanto che mi hai bannato cinque secondi dopo. Comunque sia, invece di rendersi conto del fatto che sì, mi avevano bannato l'account principale, però io ero ancora là dentro a leggere, si sono inventati che cosa? Che io ho le spie, che io mando le persone a vedere, a dire, quando in realtà sono cose che fanno loro. Ma no, ragazzi miei, se vedete un account che vi stuzzica un po', e siete così inesperti e deboli mentalmente, da farvi fregare in questa maniera qua, come se non conoscessi quelli come voi. Capito qual è la differenza? Capito perché le persone che solitamente vengono da me a dirmi no, però questo qui in realtà è tutto falso, questo non ci riesce, a me non mi frega. Vabbè. Dopo, appena esce il posto sulla community, dichiariamo guerra. Però ci serve anche la vostra collaborazione. No, ragazzi, sto tremando, James vuole farci un video contro, che paura, che paura, ma poi mica aveva già fatto il video su altri? Perché devi venire a rompere il cazzo proprio da noi? È chiaramente spaventato, è chiaramente una persona che sta cercando di racimolare qualcuno per difenderlo, perché da solo non vale niente. Infatti, come vedrete tra poco, ha ossessivamente chiesto, veramente a tutta Discord, di venire a farmi qualcosa. Il perché non si dà perché alla fine lui non sa minimamente cosa voglio fare con questo video. E l'unica cosa che voglio fare è semplicemente far vedere quanto sia tossica una community del genere. Né che mi metto qui a fare qualcosa di più del prendervi per il culo, perché nel senso, vale la pena, non lo so. Noi vi difenderemo. Se lo fa, dateci il link e lo insultiamo nei commenti. Eh, Shrek, per favore, non ci torno più nella tua palude, ti assicuro, per favore. Siamo una community molto piccola in confronto a quella di Gematria. Non conta quello, contano le persone che combattono. Che combattono, ma... Non è bellissimo, una community di 60 persone che innanzitutto pensa di essere più grossa e di una di quasi 120.000. Ma che è convinta del fatto che tutti quanti su internet stiano lì a fare... Ah, devo distruggere questo, fare questo, fare questo, fare questo. Dio mio, ma da una rilassata, ma andatevi... Non lo so, prende un crodino, twist i frutti rossi, grazie. Raga, Gematria oggi ha pubblicato un video, forse il nostro e il prossimo. Oggi, l'evento, oggi, tutti i giorni, oggi. Vabbè. Soldati, la nostra prima guerra già contro Gematria. Madonna, ma guerra di che? Guerra... Vabbè. Comincio comunque sì a chiedere mani in giro, ma gli danno tutti quanti il 2 di picca. Il signor Saul non ci aiuterà. Altri consigli? E parte il sondaggio. Secondo voi, come mai Gematria ci vuole fare un video contro? Votate, ragazzi, nei commenti. Votate. Numero 1, perché è down. Numero 2, perché ha corto di idee. Numero 3, perché non ha una vita. Numero 4, perché è ritardato. Numero 5, perché ha la mentalità di un bambino di 6 anni. Numero 6, perché è attratto da noi. E qui c'è stata una grande affluenza. Si è vuotato. Le primarie sono state... Eh, bello. Servo io per resuscitare il vostro server, però va bene. Non sono own, non so chi sia. Puoi contattarlo? Per dire cosa? A fare cosa? A distruggere il cringe? No. A distruggere Gematria. Madonna. A distruggerlo. Vada, cioè, proprio, mi sto già distruggendo nei pantaloni. POV. Gematria che evidenzia solo le cose assurde e brutte di un server Discord e non evidenzia quelle buone. Non è idea della nostra potenza. Non evidenzia quelle buone. Ma che cos'è? Oh, è strano che non abbiano ancora menzionato la critica costruttiva. Cioè, è strano, vero? Cioè, allora, ragazzi, voi riconoscete un pazzo da queste frasi. Uno che sta tutto il tempo lì, da queste frasi qua. Evidenzia solo le cose cattive, non quelle buone. Perché io, della tib... Andiamo avanti. Sei Gematria. No, lol, ma fao. Gematria è un colore di 104, proprio... Che dire, cioè, dovrei offendermi. E questo, questo, dovrei offendermi, la reazione che si aspetta a queste persone è che io mi metta lì a dire Oh, perché stanno dicendo questo di me? Perché? Ma che... Gematria, il AIPGTOTI dichiara guerra. La CIAC dichiara guerra. E che guerra sia. Ma di che guerra sia? Non lo... Cioè, proprio, che guerra è? Non lo capisco. È più un che guerra è, è una domanda la mia. Idea. Al prossimo video di Gematria, raidiamo i commenti. Non so se sia utile, ma possiamo provarci. Nella loro testa, cosa succede? Loro mi insultano nei commenti e io chiudo il canale. Perché appunto, con il bullismo che fanno contro altri ragazzini, funziona così. È questo che voglio dimostrare con questo video. Voglio farvi capire un attimino che questi tizi, di cui un pochino sono anche maggiorenni, oltra ventenni, sono convinti del fatto che così tutti quanti riusciranno a rispettarli di più. È una stronza... Ma io... Andiamo avanti. Gematria, mi sa proprio che domani postere il video contro di noi. Anche se ho 13 anni in stessito a me la cavo. Cioè, hai 13 anni, marito, ti scongiuro. Proprio te lo chiedo io in ginocchio, per favore. Non fare niente. Non ti automiliare, per favore. Che poi me ne devo sentire io i tuoi. Hanno fatto anche la mappa, tra l'altro, per far vedere un attimo i confini, le cose. E mi fa ridere che cicchino così tanto le dimensioni, perché se volessimo farla geograficamente accurata, e per la loro fortuna, io sono anche cartografo, con titoli e tutto quanto. Insomma, hanno esploso la loro scala e hanno ridotto la mia. È strana questa cosa qui. C'hanno lo stesso vizio che c'avevano le superiori di fare le cunette di sabbia alte 20.000 metri, per sbaglio. Gematria nella sua via di distruggere ogni anti-cringe possibile. Gematria che verrà arrostato da John. Coglione di merda, frongica... Madonna. Madonna. Cioè, ma questo sarebbe un roasting? Dirmi che sono andic***pato? Cioè, questo è il roasting? Dopo, ok. Ma piuttosto del roasting, inventiamoci qualcosa di nuovo per screditarlo. Capito? Cioè, perché non hai niente in mano. E te lo dico già. Io già ho visto ragazzi stamattina che hanno cominciato a prendere dei video diffamatori nei miei confronti, in cui mi hanno detto, vabbè, solite stronzate si inventa le malattie, questo e quest'altro, quando poi, cioè, per queste cose qui si va in galera, e guarda un po', io non sono in galera, che strano. Comunque sì, hai capito? Cioè, non c'ho niente in mano, inventiamoci qualcosa per screditarlo. Ma mi si è rotto l'iPad, quindi non posso più farlo, madonna. Il più grande villain del mondo è stato bloccato da due cose. L'inizio della scuola e gli si è rotto l'iPad. Madonna. Ricompralo. Ricompralo. Se non sei un fallito, ricompralo. Quanto costa un iPad? Potrei ricomprarmene quattro senza problemi in questo momento, e ciò non infigerebbe minimamente sulle mie finanze, ma va bene, non voglio mettermi a fare il cazzo rosso che ho soldi con un ragazzino, però, neh. Ricompralo. Sei un gran duomo, un gran pezzo duomo, che tutto può e tutto fa, ricompralo. Che che problema c'è? In tutto questo cominciano effettivamente a spammarmi sotto i video. Il punto è che il 99% delle cose che hanno fatto sono andate in revisione automaticamente con i filtri, neanche i miei, i propri filtri di YouTube. Ride by Ciak, così, e il canale in questione, troll.inc, parliamo della queen dello mondo, datevi il vostro nome di Discord, così vi contatto e vi dico il mio piano. 53 visualizzazioni. Fattibile, fattibile di rivelarità. Chaders, facciamo un gioco. Io dirò uno youtuber, voi dovete dirmi almeno un difetto. Pronti? Come si vince a questo gioco? Giusto per sapere. Ma poi, capito qual è il tenore qua dentro? Eh, ditemi un difetto di questa cosa perché io devo sentirmi migliore. Dio. Quando dovremmo raidare il server di Gematria? Oggi, domani, dopodomani. E non sono d'accordo neanche su questo, cioè, tra di loro, non... Vabbè. Ragazzi, questo è stato un po' di full immersion all'interno di un server Discord pieno di odio. e vi assicuro che questo qui lo so già come vanno a finire queste cose qui. Questa qua probabilmente sarà la trama di settembre se veramente io spero di no. Ma qualcosa mi dice di sì. Comunque, vedremo. Quello che voglio dirvi giusto per finire questo video è il perché ho deciso di metterlo su. semplicemente, ragazzi, innanzitutto perché mi ha divertito. Ma soprattutto perché voglio farvi vedere un attimino da fuori, da un occhio esterno, come appaiono queste community. Perché queste qui sono le community di odio che poi fanno succedere dei casini. Poi i server vengono cancellati, le cose vengono cancellate, ma solitamente andatemi a vedere magari in America, in Russia, in Francia, cioè nel senso ci sono tantissimi casi in cui ora questi tizi se la stanno prendendo con qualcuno che poi va a vedere li sfrutta e fa anche bene. Ma non è questo il discorso. Il discorso è che questo atteggiamento che viene fatto nei confronti di gente che semplicemente li sfrutta e io sono uno di questi perché in tutto questo loro non hanno preso una lira da quello che stanno facendo. Io ci sto guadagnando sopra con visual soldi e cose. Che sia chiaro anche a questi qua il fatto che vi atteggiate in questa maniera fa solo ridere e nel momento in cui qualcuno come me arriva voi mi potete ricoprire di insulti quanto vi pare. Il punto è che sono io a guadagnare da voi e non il contrario. Semplicemente perché io per lavoro faccio questi reportage all'interno di questi ambienti ma a prescindere da questo a prescindere dal fatto che qualcuno ci possa guadagnare oppure no se avete un briciolo di intelligenza e si presuppone che un minimo ce l'abbiate anche se io dubito vi renderete conto da soli che questo tipo di cose vi fanno semplicemente male perché questo tipo di ambiente non vi porta da nessuna parte e soprattutto la gente vi ride dietro e quelli che non vi ridono dietro sono semplicemente ragazzini o persone in generale più labili di voi cioè voi ve la potete prendere soltanto con chi è più debole di voi perché altrimenti non ce la fate vi arriva uno come me e non ce la fate semplicemente perché è stupido stare lì tutto il tempo a fare le guerre su internet e non finirò mai di dirlo tanto siete di ragazzini tanto siete in quattro cioè l'unica cosa che fate a prescindere da quello che pensate di fare è spargere odio e spargere cattivere sulle persone questo è quanto pensate di star facendo altro mi dispiace per voi pensate male quindi detto questo ragazzi io penso che possa finire qui grazie a tutti per essere stati qui con me anche oggi la puntata di sottocopertura può volgere al termine gigantesca rispetto al solito lo so ma eccoci qua e nulla qui sotto avete tutto ciò che può servirvi il link di pampling avete tutto quanto il mio tiktok ho ricominciato su tiktok ringraziando il dio ce l'ho fatta e il mio instagram non dimenticatevelo detto questo l'ultimo annuncio che vi do è che sul canale di allenamenti uscirà un video il 6 di questo mese quindi non perdetevelo un video di acrobatica molto molto bello non vi do troppi spoiler ma è veramente un bel video detto questo grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima ciao